Ciao ragazzi e ciao ragazze e bentornati, io sono Antonio e oggi il nuovo video a tema Harry Potter come ogni settimana. Ma prima di cominciare vi ricordo come sempre che potete utilizzare il mio codice sconto 7Potter su Pampling per avere con ogni ordine un paio di calzini in omaggio e il codice accumulabile con tutte le iniziative di Pampling è riutilizzabile tutte le volte che volete. E poi in info box trovate anche il link alla mia vetrina Amazon con tantissimi prodotti scelti da me a tema Harry Potter e non solo, ad esempio ho creato una lista, una vetrina con tutti i prodotti natalizi di Harry Potter magari per chi volesse fare il proprio albero di Natale a tema Harry Potter come quello che ho realizzato io l'anno scorso e anche quest'anno. Acquistando attraverso uno dei miei link qualsiasi cosa su Amazon aiuterete il canale a sostenersi, quindi vi ringrazio. A voi non costa nulla ma per me è tantissimo. E adesso detto ciò cominciamo col nostro video unboxing di oggi. Ragazzi, ho qui tra le mani un pacco che mi è stato inviato da Valeria. Chi è Valeria? Valeria in primis è una Potterhead come tutti noi, ma che ha deciso di fare un passo in più e di cominciare a monetizzare la sua passione per Harry Potter. Infatti lei, come tutti i collezionisti, cercava delle cose da aggiungere alla sua collezione. In questo caso specifico cercava di aggiungere delle pozioni. Anch'io ho avuto lo stesso problema perché cercavo delle pozioni da mettere in collezione. Praticamente non esistono di ufficiali. Avevo provato a realizzare qualcosa, ne ho qui due tra le mani, del sangue di drago e anche dell'alga branchia. Il risultato non è malissimo, ma ho dovuto comprare tutto da zero, ho dovuto comprare mille e mila prodotti. Devo ancora stampare le etichette e non ho proprio la forza e la voglia di continuare a farne perché ci vuole davvero tanto tempo, tanta ricerca dei materiali, bisogna avere le idee giuste. Sembra semplice ma non lo è, richiede molto molto tempo e manualità e quindi io ho messo un po' da parte questa cosa. Ma comunque volevo continuare a cercare le pozioni da aggiungere alla mia collezione. Ebbene Valeria, dopo diversi tentativi e sotto incoraggiamento del suo ragazzo e dei suoi amici, ha deciso di aprire uno shop su Etsy che si chiama Welcome to Diagon Alley. Dove vende appunto tutte le sue creazioni e lei è proprio molto specializzata sulle pozioni. E quindi eccoci qui oggi con questo pacco che mi è stato inviato da Valeria, che ringrazio tantissimo, ed è un pacco ovviamente a sorpresa. Io non ho scelto nulla tra le cose che lei propone sul suo sito o su Instagram, come vi dicevo sotto i link. E ragazzi, quindi adesso ci tocca aprirlo e scoprire assieme cosa c'è qui dentro. Ho questo pacco da due settimane in casa e non ho aperto nulla e la tentazione è stata davvero fortissima. Quindi finalmente ci siamo e tagliamo lo scotch e cerchiamo di fare meno danni possibili. Quindi vediamo. Già vedo delle cose interessanti. Abbiamo un bigliettino con tutti i suoi indirizzi. Quindi abbiamo Facebook, abbiamo Instagram, Etsy e naturalmente ora ve lo mostro anche da vicino. E poi invece c'è anche una scatolina con degli adesivi super super belli. Vediamo cosa c'è dentro. Andiamoli a guardare. Oh, belli. Abbiamo lo stemma di Hogwarts, il fiero becco con Harry, i doni della morte e poi anche il gufo con Hogwarts. Molto molto carini, grazie. E poi ancora abbiamo una pergamena con un fiocchetto. Quindi andiamo subito a leggere cosa c'è scritto. Apriamo la nostra pergamena. Caro Antonio, spero che le mie pozioni ti portino un po' di magia. Fanne buon uso Valeria. Molto molto bella. Grazie mille Valeria. Questa la conserverò assieme a tutti gli altri bigliettini che ho ricevuto in questi anni. E vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Uh, quante cose. Cominciamo da questa. Vediamo. Mamma mia. Già vedo un verde che mi piace da morire. Mi piace da morire. E vediamo cosa c'è dentro. Ok. Ci siamo. Wow. Wow. Ragazzi. Pozione polisucco. È bellissima. E agitiamola un po' perché ci sono dentro le polveri. È wow. Guardate che bello questo effetto. È bellissima. Sopra ha la cera lacca con lo stemma di Hogwarts che va a sigillare la boccetta. E poi abbiamo queste piume qui attorno con i laccetti e l'etichetta Poli Juice Potion. Ragazzi, bellissima. E mi piace tantissimo anche la forma della bottiglia, così un po' a forma di mela. È davvero molto bella. Richiama tantissimo l'atmosfere di Hogwarts dell'aula di pozioni. È davvero super super bella. Mi piace un sacco. Davvero un sacco. E mi piace anche che quando i brillantini vanno a depositarsi sul fondo resti comunque quest'acqua di colore verde che è davvero molto molto bella. Mi piace un sacco. Mi piace davvero un sacco questa dritta dritta sulla mensola in collezione. E poi ne abbiamo ancora un'altra. Vediamo cosa c'è qui. Ok, ci siamo. Non vorrei fare danni perché essendo in vetro il danno è dietro l'angolo. E vediamo qui. Abbiamo un'altra pozione più scura. Oh, Unicorn Blood. E vediamo. Andiamo a shakerarla un po'. Bellissima. Abbiamo questa pozione argento e viola che va appunto a richiamare il colore del sangue di unicorno che appunto sappiamo essere argentato. Ma Valeria ha dato anche questa sfumatura un po' violacea che devo dire ci sta benissimo. Anche in questo caso abbiamo un ciondolino appeso qui nella parte del collo della bottiglia e poi sopra la ceralacca grigia o comunque argento. Mi piace davvero tantissimo e mi piace un sacco anche questo stile di etichetta che ha scelto per le sue pozioni che non è molto invadente ed è utile al suo scopo. Quindi andiamo subito a leggere di cosa si tratta senza troppi fronzoli e mi piace davvero tanto questo stile qui. Ma non è finita ancora perché abbiamo altre due pozioni ragazzi. Ne abbiamo qui un'altra e vediamo cosa c'è all'interno. Ok ci siamo anche qui. Uh bella! Questa mi piace un sacco. Abbiamo la Flu Powder. Abbiamo la polvere volante che è di questo colore un po' verdino, grigio-verdino. Davvero bellissima. E anche in questo caso etichetta davvero azzeccata. Verde con la scritta Flu Powder. Quindi semplicissima. Pochi fronzoli ma molto molto azzeccata. Mi piace davvero un sacco. Io avevo provato a realizzare la polvere volante, avevo preso del sale, l'avevo colorato di verde ma era davvero una porcheria. Mentre questa sorta di sabbiolina argentea che ha scelto Valeria direi che è perfetta. Richiama anche tantissimo quella che abbiamo visto nel film. Super super contento. Davvero bellissima. E ancora abbiamo un'ultima bottiglia. Credo che non ci sia più nulla. Non vorrei dimenticare qualcosa da mostrare. No, perfetto. La togliamo. E abbiamo questa che sembra essere di colore blu. Cosa sarà? Abbiamo la polisucco. Abbiamo il sangue di unicorno. Abbiamo la polvere volante. Quindi cosa può mancare all'appello. Ok, ci siamo. Vediamo un po'. Uh, Wolfbane Potion. Possiamo descriverla come la pozione che utilizza il professor Lupin per controllare il suo essere un lupo mannaro. Quindi che tiene a bada questa parte di lui. Infatti c'è scritto Effective Licantropy Treatment. Quindi un trattamento contro il licantropismo. Chiamiamolo così. È di un colore blu. Ha dei ciondolini a forma di luna che sono azzeccatissimi qui sul davanti. Tre piccole mezze lune. Ragazzi sono davvero bellissime queste pozioni. E andiamo ad agitare la bottiglia. E ecco che abbiamo all'interno del violetto. È molto molto particolare. Devo dare una bella scecherata perché sono due settimane ovviamente che il pacco attende nel mio armadio. E quindi adesso ok, ci siamo. Ecco qui abbiamo un bel blu e viola tutto mischiato che richiama queste atmosfere notturne. Davvero super super bella. Mi piace un sacco. Guardate questa quanto è figa. E ragazzi anche in questo caso etichetta super azzeccata con tutte le fasi della luna qui in basso, un lupo e una mezzaluna qui in alto. E poi c'è scritto anche proprietà di Severus Snape. Mi piace anche la scelta di aver lasciato l'etichetta in inglese, in originale. Lo trovo molto giusto, molto azzeccato per una collezione a tema Harry Potter perché quelle italianizzate non sono proprio il massimo. Siamo affezionati con i film ma in collezioni anche io preferisco avere i nomi originali delle pozioni. Ragazzi ditemi voi cosa ne pensate sotto nei commenti. A me piacciono tantissimo. Sono davvero innamorato di queste pozioni. La polisucco credo sia la mia preferita ma sono tutte bellissime. Davvero tutte degne di stare in collezione. Probabilmente ne prenderò altre sul suo shop perché sono davvero super super belle. Fatemi sapere cosa ne pensate e tra queste quattro qual è la vostra preferita. Ditemelo sotto nei commenti. Io ti ringrazio ancora tantissimo Valeria e il suo shop Welcome to Diagon Alley per avermi inviato queste pozioni che ovviamente andranno ad arricchire la mia collezione. E che vi becchierete nuovamente l'anno prossimo nel video repilogo della mia collezione aggiornata. E ragazzi come sempre detto ciò io chiudo il becco. Vi ringrazio sempre per aver visto il video fino alla fine. Lasciate un mi piace, commentate, condividete il video con i vostri amici. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, fate tutto quello che ormai sapete da diversi anni. E niente ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao! 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 Grazie a tutti